Benvenuto! Stai per caso cercando una villettina con giardino abbastanza grande in zona Rivalta, San Rigo? Ho la soluzione che fa per te. Andiamola a vedere! Eccoci all'interno dell'immobile, il quale si sviluppa su tre livelli. Attualmente siamo in piano primo, dove abbiamo soggiorno con balcone, un cammino funzionante, bagno finestrato e una cucina abitabile. Salendo le scale troviamo la zona notte, dove abbiamo tre camere da letto, un bagno e due balconi. Sapevo che poteva fare il caso tuo, quindi non mi resta che salutarti da questo giardino di proprietà. Per fissare la tua visita privata, chiama il numero sotto indicato oppure venite a trovare un ufficio in Venera Romagnoli 1 a Rivalta. A presto!